Buongiorno, benvenuta in questo nuovissimo vlog, voi vedrete questo vlog il 3 di settembre in realtà ho pensato di farvi un vloghino dove racchiudo i momenti più salienti di questi miei giorni di pausa ho pensato fosse carino per immortalare comunque dei momenti in cui magari c'è qualcosa da mostrarvi ecco se mi capita qualcosa magari dico oddio prendo il telefono faccio vedere nel vlog e poi dico no non sto vloggando però magari saranno clip qui e là di questi giorni quindi sarà un vlog mix di questi 4-5 giorni in cui non sono presente su youtube anche se sto cercando di essere più presente su instagram quindi spero vi faccia comunque piacere e niente, tarda mattina, io stamattina ho già fatto a rieggiare le camere, ho fatto i letti appunto adesso posso ancora l'aspirapolvere, il piano di sotto ho già fatto tutto, devo fare il piano di sopra e poi preparo un po' di pranzo insomma mi è venuta in mente quest'idea perché appunto ho fatto vedere su instagram i cd di Vasco che tra l'altro ragazze le comiche perché ieri appunto dovevo andare in farmacia per Alessandra, niente di grave, una sciocchezzina però poi magari ve la racconterò e quindi ho pensato, ho detto a Riccardo devo andare in paese magari passo dal nostro edicolante tabaccheria di fiducia e chiedo se ci sono dei numeri di Vasco da ritirare perché ce li stanno tenendo da parte e quindi pensavo sinceramente un paio di numeri da ritirare anche perché gli ultimi erano costati 12,90 l'uno quindi insomma fa un po' cifra se ne ritiri più numeri insieme e quindi sono andata, appunto sono passata con Alessandra, sono andata all'attimo in farmacia sono passata anche da quest'edicolante e ho chiesto se a nome Riccardo c'era qualcosa da ritirare mi fa sì sì, ha preso la mazzetta arrotolata con l'elastico, 5 numeri ragazze, volevo morire e quindi quasi 60 euro di cd di Vasco però vabbè ci siamo presi l'impegno di fare questa collezione e poi Vasco piace sia a me che a lui quindi è un regalo che inizialmente li avevo fatto io se ricordate e poi se l'è continuata lui però comunque piace entrambi quindi dai tra l'altro ci ha dato un'ottima notizia perché a fine settembre finisce quindi mancano tipo 4 numeri e poi abbiamo finalmente finito anche questa ed è bello poi avere tutto il cofanetto completo se c'è una cosa che odio sono proprio iniziare queste collezioni e poi lasciarle un po' a metà quindi no, piuttosto piano piano, una se la fa e niente, quindi adesso fino al 15 settembre siamo a posto la prossima volta che passeremo sarà a metà settembre per ritirare gli ultimi 4 o quello che manca e abbiamo finito, quindi ve li faccio vedere perché mostrandoveli su instagram mi è venuto in mente appunto di questa idea di fare questi spezzoni di giornata quindi oggi faccio questo pezzo di video, domani ne farò un'altra o quando c'è qualcosa da mostrarvi accendo e poi unisco tutti i pezzettini vi faccio vedere i cd eccoli qua, eccoli qua ragazzi allora vedete numero 10, numero 11 poi qua abbiamo il 12, il 13 e il 14 i numeri sono 18, quindi in teoria ancora 4 numeri quindi abbiamo finito, questo qua non dice la data precisa di fine mi pare, però mi pare di aver letto comunque settembre quindi sicuramente entro fine settembre abbiamo terminato volevo consigliarvi questo prodotto qua che io utilizzo principalmente per pulire i pavimenti, per pulire a terra però essendo un presidio medico chirurgico va bene anche per sanificare il WC i laveli, insomma i piani lo potete utilizzare anche per altre cose e vi dirò io quando lo vedo nei supermercati lo prendo se ha un prezzo ancora più conveniente magari faccio anche scorta l'altra volta ne ho presi due mi trovo strabene, mi piace un sacco la profumazione quando lavo con questo mi sento proprio nel pulito ecco, nonostante io lavi sempre a terra con tanti altri prodotti anche più profumati, muschio bianco eccetera ma questo mi dà proprio la sensazione di benessere, di pulito quindi mi sento di consigliarvelo anche perché si può utilizzare per diverse cose quindi uno va anche un po' a risparmiare fatemi sapere se lo trovate, se lo provate se piace anche a voi ecco Grazie. Buongiorno, nuovo giorno, dove sto andando? Sto andando all'Eurospin perché una di voi, gentilissima, mi ha fatto notare che questa settimana c'è il nocciolino all'Eurospin a 1,99€, io non so se lo troverò, perché se non ci è stato fino ad ora, per carità, prezzo pieno, quindi magari se è un'offerta da volantino dovrebbe esserci. Adesso vediamo. E niente, vi terrò aggiornate, se avrò avuto successo, poi vabbè, devo andare anche a prendere la carne anala, per carità, devo prendere solo queste due robe perché abbiamo fatto spesso da poco, quindi siamo a posto. Vado solo per queste due cosine e poi vi farò sapere se ne esco vittoriosa in caso mi vedrete con la solita faccia felice. Buongiorno, ciao, senti, di queste qua ne abbiamo sei. Ok. Uscita adesso da Eurospin, scusate se metto gli occhiali ma veramente mi lacrimano gli occhi per la luce che c'è. Allora, vi faccio vedere, nocciolino, niente, ma immaginavo, probabilmente non è un'offerta quella che mi hanno riferito un paio di voi presente in tutte le regioni, non lo so. Qui mi hanno detto appunto che non ne hanno più come immaginavo perché ogni tanto lo mandano e quindi niente, pazienza. Ci ho provato, proverò ancora il penny come mi avete sempre consigliato voi, che c'è anche lì appunto. Allora ho preso, c'era 6 euro e qualcosa il cuscino di Elsa e Anna. Come potevo non prenderglielo, lei è proprio patita e poi ho preso, ovviamente ne ho preso uno da mettere anche sul letto per Federico, che lui un po' ama, un po' ama tantissimo Harry Potter come me e quindi gli ho preso Edwidge, il cuscino di Edwidge. Se volete dare un'occhiata ai vostri Eurospin, sappiate che ci sono un sacco di cosine carine, il Blade, delle principesse di Topolino e di Harry Potter, poi ho visto il cuscino di, solo del gufo però, di Harry Potter, il cuscino c'è sia di Frozen che appunto di Harry Potter, ma solo Edwidge, e le principesse. Quindi se avete bimbi, nipoti, eccetera, a cui fare un pensierino, hanno un prezzo anche decisamente basso, perché 6 euro un cuscino della Disney non è male come prezzo. E poi ho trovato queste, che le devo provare, perché le scarpe che lei attualmente utilizza sono un 28, e anche qua è un 28. A vederle mi sembrano un pelino più grandi, però visto che le 28 che ha iniziano a essere, insomma, non ha tanto spazio, avrà un dito, neanche. Bisogna vedere, se queste vestono un pochettino più grande, a posto, così ho trovato le scarpine per iniziare la scuola per Ale. Se invece le vanno piccole, tanto mi hanno detto che per una settimana con lo scontrino le posso cambiare, faccio un po' di spesa, no problem. E quindi vediamo. Poi vabbè ho preso carne in ala e le uova, che l'altra volta mi ero scordata di acquistare. E niente, direi che posso andare a casa e noi ci vediamo, penso, nei prossimi giorni, perché come vi ho detto sto facendo degli spezzoni qui e là. Aaron ha scelto la via più fresca. Aaron! C'è il ruscellino qua, non riesco a toglierlo da lì, mi piace. E' finita la strada, sali su. Esprimi un desiderio, il tuo primo puzzle è finito. Gira, gira, giralo tutto. Così. Brava. Vai. Vai brava! Un applauso a Bubina. Brava amore, il tuo primo puzzle. Chi è? Ezza! Ma sì, bravissima. Qui si procede con... Aspetta, aspetta. Ti ho messo male. Oh, no, non è qui. Ah, non era quello, ti ha fregato. Ah, ci ha fregato. Anzi, secondo me è quello, ma va qui girato. Eh, no, no. No, no. Eh, sì, sì. No, io. Che ne faccio? Eh, sì, sì, mamma aveva ragione. C'è fregato, mamma. E si sono i puzzle che... Questi sono i puzzle che avevo preso su Amazon. Li trovate su Amazon. Se vi interessa, magari nell'info box vi lascio il link. Come vedete, gli piacciono molto. Buonasera, ragazze. Come state? Oggi è giovedì sera. Sto aspettando le patate che siano pronte. Le ho fatte in frigidrice d'aria stasera. E Aaron ce l'ha con la salvia. Cosa c'è? Di snuffi la salvia. E quindi ho detto, vabbè, esco un attimino. Si stanno ascoltando la musica, Riccardo e Ale. E io sono uscita un attimino. Perché c'è un cielo meraviglioso. Molto rilassante. E quindi ne ho approfittato. Tra l'altro Riccardo prima ha pulito tutte le roselline. Che c'è? E vi faccio vedere quelle belle. Ci sono queste che sono bellissime. Poi vedete, continuano a uscire boccioli. Anche qua, guardate che bello. Anche qui. Però appunto quelle brutte. Vedete, ha tagliato tutto. Perché è inutile tenere lì le rose vecchie brutte. Qua ce n'è un'altra. Lì su. E là ce n'è un'altra. Vedete che carina. Invece quelle rosa sono quelle che si rovinano sempre prima. Molto facilmente. Infatti abbiamo tagliato tutto. Quindi per ora non mi pare ci sia più nulla. Abbiamo potato. Perché erano proprio brutte. Questa sarebbe la rosa rosa. Però vedete, non ce ne sono più perché erano tutte brutte brutte. Sono sempre le prime. Durano meno queste qua. Andiamo dentro, vieni. Vieni amore. Stasera me tocca. Vedete questa cesta? Tutte cosine da stirare. Ci siamo anche tenuti una felpa a testa. Perché in queste sere inizia a fare veramente freschetto ragazzi qua. E quindi per Riccardo ho tenuto questa. E per me da stirare ho tenuto questa. Che è una delle mie preferite di Harry Potter. Carina questa. Poi molto comoda, molto morbida. E calda. Poi anche il cappuccetto. Sì lo so, in tante mi dite che vi fa piuttosto impressione vedermi la felpa ogni tanto. Però ci sono delle sere in cui non posso farne a meno. Poi mi metto a letto e non la metto più. Cioè me la tolgo. Però anche se ho il vestitino specie, qualche sera mi è capitato di metterla già. Perché faceva freddo specie se quel giorno lì ha piovuto. Perché se non piove ancora ancora di sera si sta tranquillamente in maglietta. Però se ha piovuto la sera proprio io sento freddo. Ora vi faccio ridere. Sapete i classici contenitori dell'acqua per il ferro da stiro piccolini? Ecco. Io utilizzo questo perché mi scoccio a fare avanti e indietro a riempire il piccolo brick di acqua per il ferro da stiro. Quindi quelli non li uso mai. A volte li butto direttamente e mi vado a utilizzare questi qua giganti. Però mi trovo meglio. Mi trovo meglio. Infatti questo lo uso sia per stirare che per cucinare. Tanto ci devo solo mettere un po' d'acqua. E niente. Quindi inizio dalle felpe. E poi mi sono messa nella cesta le cose che mi servono con più urgenza. Quindi magliettine dei bimbi specialmente Ale. Perché Fede non c'è. Quindi le sue cose sono già tutte sistemate e stirate. Però Alessandra che ne consuma a quantità industriale si sporca un po' più spesso. Anche se devo dire che lei è un po' fissata come me. Cioè sta molto attenta a non macchiarsi. È molto pulita. Però ovviamente essendo comunque una bambina di tre anni si sporca facilmente. Quindi le sue cose sono quelle che lavoro e stiro più spesso perché è piccolina. Poi mi sono lavata anche le scarpe di Alessandra e i pannetti per lo spray mop. Li ho messi in lavatrice. Poi sono già asciutti. Si asciugano veramente con una velocità. Li ho tirati fuori dalla lavatrice e sembravano già asciutti. Quindi non ho dovuto neanche stenderli. E poi ho lavato le scarpine. Queste qua di Covery. Ve le faccio vedere. Queste qua. Gliele ho lavate perché come sapete abbiamo acquistato quelle di Frozen. e quindi così le profumate. Queste sono belle pulite e le può andare a interscambiare. Adesso le lascio, le metto fuori. Magari così si asciugano prima. E boh mi spiccia a stirare. Quasi asciugano prima. Quasi si asciugano qui si asciugano va possibile fare. Quasi si asciugano. buongiorno sono stanca morta ragazza ho pulito tutta 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 casa e vi ho girato l'home tour quindi ci tenevo a dirvi che l'ho girato uscirà penso il il 6 il 6 di settembre perché il 3 esce questo poi domenica non esce nulla lunedì e martedì abbiamo il video sul brindisi lunedì e martedì avrete l'home tour quindi penso oppure alterno e metto un vlog di mezzo non lo so comunque non vedo l'ora che lo vediate insomma sperando appunto che vi piaccia e niente adesso vado a preparare il pranzo e soprattutto mi vado a mettere gli occhiali perché c'è già gli occhietti che frizzano c'è niente da fare devo andare assolutamente a farmi vedere a rifarmi almeno le lenti almeno le lenti entro quest'autunno le devo fare e va bene comunque che bello tutta casa super sistemata il brindisi che poi quando li hai finiti hai la casa che è un meraviglia allora per pranzo sto facendo i pisellini ho messo due pezzettini anche di oh mamma ops scusate due pezzettini di cipolla cioè questa vocina di Barbie è inquietante qua ho iniziato a scaldare l'olio che faccio filetti di merluzzo d'alaska questo qua adesso lo spacchetto e lo metto in padella trovo sempre un modo per filmare siete su un rotolo di scotex appoggiati al portaposato ho dimenticato il cavalletto su guarda che statua tadaaa come sono e l'ho lasciato su l'ho dimenticato su e devo spicciarmi a cucinar facciamo giusto un trancetto a testa tanto ci sono anche i piselli c'è anche il formaggio così mi tengo ancora un pacchettino di pesce tu cosa hai da dire di fronte a queste vocine di Barbie basta non ne posso più neanche io non ne sopporto più mamma in tantissime mi state scrivendo che è cresciuto un sacco in effetti si è diventato enorme enorme il 6 settembre fa sette mesi il nostro cavallo goloso eh che goloso e poi lì c'è la piccola contessa ecco il pessino ecco niente il gelosone guardatelo ma ti pare una carezza le volevo fare posso? non lo so ma guardati stai rasentando il ridicolo ho preso questa magliettina qua che volevo mettere ad Ale come pigiamino diciamo e fuori c'è un'aria fredda ragazze che non c'è specie dal da lucernaio che fa corrente mi arriva proprio st'aria gelida cioè ecco stai fuori così si sente poi appena arriva l'aria sento freddo però vabbè il pantalone ce l'ho già di là è giusto prendere questa ecco da qua perché il mare è freddo freddo guardate la mia bimba wow è un bimbo è tutto azzurro è un maschietto è il passeggino fai vedere wow anche il passeggino andiamo a fare la passegginata e guardate come faccio la passegginata vabbè notare che Ale ha già anche la lavatrice là nell'angolo si e guardate perché anche questo da legare anche la cintura abbiamo perso un paio di calzini bagnetto pronto ho utilizzato da mettere un po' nell'acqua questo qua piccolo mio con bio ingredienti bagno corpo e capelli mi sto trovando molto bene con questo qua era un regalo ne avevo due il primo l'ho già finito quindi vi posso dire che è un buon prodotto non ha super super profumi sarà anche perché è bio però sa di pulito comunque piacevole insomma ci sta piacendo vedete che è tutto di origine naturale senza petrolati parabene coloranti alcol eccetera dermatologicamente testato ma i prodotti fissano sono comunque dei buoni prodotti e quindi niente era per dirvi che sto utilizzando questo e poi vi voglio far vedere l'accappatoietto di Ale non so se l'avete mai visto questo glielo avevano regalato i nonni ed è della della Disney mi pare di Topolino è proprio il mio preferito di Minnie se non mi sbaglio comunque sì sì ci sono i disegnini di di Topolina cosa del genere vediamo un po' se lo dice qua sì vedete Minnie Mouse stai ferma vedete Minnie Mouse e l'avevano preso da prenatal sì da Natale è molto molto comodo poi c'è anche i laccettini e quindi ci troviamo bene anche con questo è ora del bagnetto andiamo alla fine si è messo a piovere proprio brutto e freddino oggi io vi saluto qua perché così inizio a concludere l'editing di questo vlog che uscirà appunto domani il 3 settembre spero vi sia piaciuto questo piccolo mix di cose fatte in questi giorni di pausa ho già registrato altri video che usciranno a breve domenica non uscirà nulla e poi tornerò con un nuovo video lunedì come avrete visto dalla nuova copertina youtube ho cambiato un po' la programmazione perché al momento specie con l'inizio delle scuole vloggare tutti 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 i giorni è un po' complicato per me al momento quindi i giorni di pubblicazione ve lo dico anche qua saranno lunedì martedì giovedì venerdì poi molto probabilmente ne aggiungerò uno nel weekend quando riuscirò quando sarò più tranquilla però sappiate che di sicuro in questi giorni pubblicherò un video alle 7 del mattino poi tutto ciò che sarà in più sarà un bonus sarà un extra ecco quindi sapete che se riuscirò saranno di più diversamente avete la certezza che il lunedì il martedì il giovedì e venerdì alle 7 ci sarò sempre con voi e niente io spero di aver ritenuto un po' di compagnia e direi che ci vediamo lunedì con un nuovo video vi voglio bene ciao 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 Grazie a tutti